E' morto Antonio Mantovano, l'operaio di 66 anni dipendente del comune di Lamezza Terme, che il 13 febbraio scorso era rimasto ferito in un incidente sul lavoro, mentre si trovava in uno stabile dell'ente. Mantovano è deceduto nell'ospedale di Cosenza, dove era ricoverato dopo aver trascorso un periodo di riabilitazione in una casa di cura privata. L'operaio nell'incidente aveva riportato gravi trauma in particolare alla testa e dal torace. Sull'incidente la Procura della Repubblica di Lamezza Terme ha avviato un'inchiesta in cui al momento, secondo quanto si è appreso, non ci sarebbero indagati.